Senza movimento il nostro mondo si ferma. Il movimento è la forza che ci fa progredire. Movimento significa sviluppo, progresso, futuro. Affinché il nostro mondo possa muoversi c'è bisogno della tecnica. Ma dietro qualsiasi tipo di tecnica ci sono delle persone, uomini e donne che la progettano, la utilizzano, la gestiscono. Noi delle Zermatt Bergbanen gestiamo 51 impianti, con i quali saliamo da 1600 fino a 3880 metri, trasportando fino a 15 milioni di persone all'anno. Sicurezza e operatività sono i nostri massimi principi. I nostri ospiti vogliono raggiungere la meta senza interruzioni. Ecco perché abbiamo bisogno di un team forte e di un partner forte, costantemente a nostra disposizione. Nei nostri serbatoi sono stivati 60 tipi di oli di base e 600 additivi. La materia prima per oltre 7500 prodotti che sviluppiamo e produciamo qui a Langenthal per i nostri clienti di tutto il mondo. Un lavoro che va da sé, svolgiamo nel massimo rispetto dell'ambiente e delle risorse. Insieme a mio fratello e a 7 dipendenti gestisco un'impresa di lavori agricoli. Nella nostra azienda abbiamo molte macchine, prevalentemente ad uso stagionale. Ciò significa tempi di utilizzo brevi, ma prestazioni massime. A parte le condizioni meteo, il rischio più grosso è che una macchina si fermi. Per noi sarebbe una catastrofe. Per fornire un servizio che soddisfi al meglio i nostri clienti, dobbiamo poter disporre di tutte le macchine in ogni momento. Ecco perché abbiamo scelto Motorex, perché ci offre prodotti di alta qualità e un ottimo servizio. Un impianto di miscelazione è come un'orchestra. Ogni elemento deve fare la sua parte. L'esperienza dei nostri specialisti, abbinata a uno speciale programma computerizzato, fa sì che ogni miscela riesca esattamente così come la vogliamo. Io sono responsabile della logistica e della manutenzione di una grossa impresa ed il che dispone di un ampio parco mezzi con macchine di vario tipo e importanza. Le nostre macchine lavorano dalla mattina alla sera, anche in situazioni estreme come le calure estive o il gelo dell'inverno. Per questo ci servono oli di elevata qualità, estremamente performanti. I nostri clienti ci chiedono lavori precisi, veloci e corretti. Abbiamo quindi scelto un partner che ci garantisce proprio queste qualità. Prodotti innovativi meritano imballaggi che tengono conto delle necessità di chi li usa. Ogni cliente ha esigenze diverse e noi cerchiamo di soddisfarle tutte. Uno dei grandi punti di forza di Motorex è di offrire un vasto assortimento di prodotti in un'altrettanto vasta tipologia di contenitori. Il motociclismo è un lavoro di squadra, non c'è posto per gli errori. Ci si gioca tutto a mezzogiorno della domenica, al momento della partenza davanti a 30.000 spettatori e per puntare in alto ci vogliono partner forti. Una volta i motori erano a due tempi e funzionavano in modo relativamente semplice. Oggi sono a quattro tempi e con tecnologie da Formula 1. Ecco perché è importantissimo poter contare su un partner tecnico che ci aiuti a realizzare i nostri obiettivi e i nostri sogni. Dal 2003 abbiamo stretto questa partnership. Insieme siamo diventati numero uno in questo sport, un'impresa che ha davvero dell'incredibile. Abbiamo migliori piloti e migliori partner. Invenzioni, idee, novità mondiali, brevetti. Creare innovazione per costruttori e team ai vertici mondiali degli sport motoristici. Un compito sempre più arduo, ma riusciamo sempre a trovare una soluzione e non una qualsiasi, ma la migliore, anche per l'ambiente. Siamo un'impresa di famiglia della regione di Herzogenbox. La meccanica di precisione è la nostra passione. Siamo leader tecnologici a livello mondiale. I nostri fusi sono spesso al lavoro sette giorni su sette. Elevate prestazioni significano elevate temperature. Refrigeranti che non richiedono manutenzione sono per noi un elemento decisivo. Con la nostra tecnologia arriviamo ai limiti delle leggi fisiche. Le soluzioni standard non ci bastano. Noi puntiamo al massimo. E per soddisfare i nostri clienti abbiamo bisogno di un partner che la pensi come noi. Da Langenthal i nostri prodotti vengono spediti in tutto il mondo. Centinaia di invii che effettuiamo ogni giorno, praticamente 24 ore su 24, via camion, treno e nave. Il mondo vuole restare in movimento. La mia azienda lavora nel settore automobilistico, un mercato contrassegnato da una fortissima concorrenza. Poiché serviamo varie marche, anche i nostri clienti sono molto diversi l'uno dall'altro, ma tutti pretendono da noi la perfezione. Queste elevate esigenze ci pongono spesso di fronte a complesse problematiche tecniche. È proprio in questi casi che dobbiamo poter contare su un partner affidabile che ci supporta con il suo servizio, ma soprattutto con delle soluzioni. A cosa serve avere ottimi prodotti se non funziona il servizio di assistenza e consulenza ai clienti? Noi, i nostri clienti, li ascoltiamo e li aiutiamo in tutti i modi. Il nostro motto se vi serve qualcosa da noi la trovate, senza se e senza ma. Con le nostre specialità e i nostri prodotti di qualità, anche in futuro saremo un partner importante per un mondo in perenne movimento.